Benvenuti all'edizione flash del TG Dirpignan News, apriamo subito il nostro notiziario con una notizia esclusiva. Carmelina, baby mamma di Cervinara, sarà in collegamento diretto questo pomeriggio con la nota conduttrice televisiva Barbara D'Urso per la trasmissione di Mediaset. Passiamo invece adesso alla pagina politica dai comuni, ad Ariano Irpino è caduto ufficialmente il sindaco Mainiero, infatti i consiglieri sono rimasti sui loro passi e hanno dato il ben servito all'amministrazione, in serata in arrivo il commissario prefettizio. Restiamo ad Ariano e parliamo di giustizia, infatti c'è fermento nel comune per l'accorpamento delle sedi giudiziarie, giovedì tutti in piazza ad Avellino per protestare. Ed ora passiamo alla cronaca, continua il proliferarsi di coltivazioni di marijuana fai-da-te in casa, questa volta a Cervinara è stato arrestato un ventottenne. Continuiamo con lo sport e col calcio Avellino, dal pomeriggio al via la sottoscrizione presso i botteghini dello stadio Partenio Lombardi della tessera del tifoso. Basket, Thomas e Cavaliero si presentano alla città alle 17, conferenza stampa. Le pillole di Irpinia News e TG Flash finiscono qui, l'appuntamento è questo pomeriggio alle 19. Un saluto da Rosa Iandiorio e dalla redazione di Irpinia News.